Si appropria di certificati medici di uno stretto congiunto affetto da patologie psichiatriche riconosciute per ottenere illecitamente la pensione di invalidità. A scoprire la truffa all'Inps, il comando provinciale della Guardia di Finanza di Chieti ha denunciato il falso invalido. L'uomo ha percepito indebitamente la pensione di invalidità per due anni. Determinante è stata la segnalazione effettuata da un cittadino al numero di pubblica utilità 117, che evidenziava come il soggetto, pur percependo il beneficio, conducesse una vita assolutamente normale, frequentava palestre e guidava la propria auto, pur avendo riconosciute gravi patologie di tipo psichiatrico. Svolte le indagini, anche mediante appostamenti e rilievi fotografici, i finanzieri hanno scoperto il modus operandi truffaldino messo in atto dal falso invalido, che aveva sostituito il proprio nome con quello del suo congiunto, effettivamente portatore di handicap, traendo così in inganno i membri della commissione medica. Nel corso delle indagini sono state acquisite anche certificazioni sanitarie prodotte da strutture pubbliche risultate totalmente false e riferite a visite mediche mai effettuate. Il falso invalido è stato segnalato all'Inps, che si attiverà per il recupero di oltre 16.000 euro. L'uomo è indagato per truffa aggravata e falsità materiale.